il futuro dell'edilizia questo il tema del workshop di info progetto organizzato a bari il 4 aprile 2017 progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile numerosi gli interventi molto interessanti e le aziende presenti compresi anche i progettisti che sono a corsi davvero numerosi vediamo questi anni dove l'invarianza idraulica è un tema molto molto caro molto sentito da parte degli architetti e degli ingegneri noi con Recycle stiamo cercando di dare la soluzione a una tematica così importante che è quella del riciclo delle acque del riutilizzo delle acque e dell'invarianza idrologica solo uno dei prodotti dei prodotti che rappresentano la linea via veneto ed è sicuramente il prodotto che ha la maggiore valenza comunque tecnica e anche a livello di design è un prodotto comunque innovativo che non era presente sul mercato e che ancora oggi è unico nel suo genere rapporto con gli studi di progettazione fortunatamente non è solo legato alla vendita anzi è solamente una parte una parte marginale ormai la vendita perché comunque è una collaborazione a quattro mani che abbiamo sviluppato con i progettisti nel corso degli ultimi anni e che hanno fatto sì che potessero nascere tantissimi prodotti nuovi e tantissime soluzioni nuove anche qui al sud anche qui appunto in puglia dove ci sono già molti lavori molti capitolati fatti con con i prodotti specialmente appunto come dicevo prima recycle o mega o comunque tutta la fascia di prodotti di alta qualità e di alti contenuti tecnici e di design di favore 1 quello che scelta sopra e